Quasi 52.000 persone sono state controllate dalle forze dell'ordine nel Piacentino tra il 10 marzo e il 3 maggio durante il lockdown causato dall'emergenza coronavirus. Obiettivo era quello di verificare il rispetto delle normative anticontagio. I decreti ministeriali imponevano di spostarsi solo in caso di lavoro, salute e necessità. In base ai dati forniti dalla prefettura di Piacenza, le sanzioni in questo periodo complessivamente sono state 2.374. Dal 4 maggio, data delle prime riaperture, al 27 maggio, sono state controllate 15.039 persone e le sanzioni sono state 264. In questo periodo sono stati controllati anche 1.886 esercizi commerciali, le multe sono state 5 e un'attività è stata temporaneamente sospesa. L'importo minimo delle sanzioni era di 400 euro, ridotto del 30% in caso di pagamento entro 5 giorni. Dall'inizio del periodo di quarantena obbligatoria e fino al 27 maggio, i ricorsi presentati alla prefettura dai soggetti sanzionati complessivamente sono stati 76.